attenzione scusa viva mai dire golle è una bella show e rieccomi qua amici di viva mai dire golle ormai dico viva mai dire golle per tutti gli annunci che farò dopo aver ascoltato la spagna jugoslavia di italia 90 i mondi e si giocheranno nel in italia di quell'anno di nel 1990 restiamo sempre in italia per annunciarvi la seconda parta seconda cronaca che abbiamo scelto per noi che sarebbe cecoslovacchia costa ricca 1990 ospite giannina faccio appuntamento sempre nel già la passona con il link che potete trovare in descrizione che vi portano la pagina dove potete ascoltare la partita e buona ascolta anche oggi alla prossima